Pure se il tempo si faceva più amaro, passava sempre il carretto del verdumaro. Le cose cambiavano, ma noi non ci siamo arrenduti a queste cose. Siamo continuati a vivere per le strade della provincia napoletana, con tutte le ispirazioni che tenevamo. Giacomino voleva fare il ginecocolo per fare il rattuso con tutte le femmine. Peppino invece voleva fare l'elettricista, perché era un uomo di grande feeling, e come metteva lui i feeling, non c'era nessuno. Teneva la mano leggera, infatti mo' lavora solo sui pullman e qualche volta nell'ameropolitana. Capisce a me. C'era Antonella, che voleva fare la cantante bella. Ascoltava tutti i giorni la radio a sempre un volume altissimo. E ricordo ancora come se fosse ieri quella scarpata in fronte chiavetta dalla signora di Rimbette, che delicatamente le apostrofò. Anna Rece, Rutte e Recchie. Eravamo una comitiva. Seguivamo le partite. Siamo cresciuti con le cassette false, che ci sentivamo sempre nelle macchine di quelli un po' più grandi di noi, che ci portavano a fare giro. A una certa ora bisognava tornare a casa, altrimenti papà spezzava i cosci. E mamma, mamma buttava a pressa la cucciarella ancora sporca di pasta e fasù. E quelle mattine d'estate andavamo al mare. Parevamo 600 in d'acchella 500. La domenica poi, il fidanzato di sore mi portava le paste e dava il bacio all'agnola. Mua! Mua! E io, che ero ancora piccolo, li andavo sempre a rompere il sentimento. E per farmi allontanaro, cognatemi apriva il portafoglio e mi dava mille lire. E ovvero, già tenevo la cazzimma. Ma, ma quelli erano anni. E sono fiero di poter dire con un sorriso, io ho nato negli anni ottanta. Io ho nato.